Il mio cinema preferito è il neorealismo italiano, Roma città aperta, Rossellini, Pasolini, tutto e allora questo film insomiglia molto a quella realità della gente vera, questo mi piace molto, la realità di questa signora che ha questa vita di miseria. No, Joe non è questa leggenda che mi ha conosciuto in un bar, ma Joe sono nata a Mallorca e dopo sono andata a Madrid a 18 anni con il mio gruppo di pop-punk, peggio impossibile, che potete trovare per impossibile, delle video su YouTube che erano fantastici. Abbiamo pure venuto all'Italia, a Roma e a Torino all'epoca e siamo andati alla Movida Madrilegna con il nostro gruppo di musica e Pedro veniva al concerto di noi e noi lo conoscevamo tutti e la notte madrilegna da quella epoca, la fine dell'80. Io ho fatto tantissime cose, pure Francia, Italia, pure America un po', per me nel mondo del cinema in se stesso è un universo simile in ogni posto, perché hai tutto, la gente che fa lo stesso, allora è una famiglia, no? Io sempre dico che soltanto credo alle frontiere gastronomiche, gli altri non mi interessano, sono tutti artisti, no? Quando sono in Italia sono italiana, quando sono in Francia sono francesa, quando sono in Spagna è spagnola e quando sono in Africa, è africana. E' che tutte le frontiere gastronomiche, questo che è bello, che di un piccolo paese a un altro hanno cambiato la maniera di cucinare, è tutto buono, sono delle frontiere a celebrare, non come la geopolitica che è. Io sono un attivista dell'EGTB però, come si dice, perché sento che è una cosa normale e crede che ognuno sceglie quello che sente, il cuore non ha un sesso né niente. E dopo, oppure, di tutto questo conflitto dell'immigrazione, che non credo che siamo emigranti né migranti, perché, come dico io, come ti ho detto delle frontiere, nessuno è venuto da Marte. Siamo tutti terrestri, siamo tutti qui. Non capisco come l'Europa e l'Occidente si hanno costruito con le mani delle schiavi e adesso che la gente viene non le lasciamo venire, è un po'... Se il karma esiste, dobbiamo pagare molto molto caro questo che stiamo facendo, di non lasciare, non aiutare la gente. Se non vuole che vengano, aiutano nel suo paese, perché tutta l'Europa e tutto l'Occidente rubano dell'Africa tutto. Allora, dopo, non posso venire qui quando tu hai costruito tutto con questo che è andato lì a rubare degli esseri umani. È molto molto terribile, è una paradosa orribile. Nel cinema e nell'arte si può spiegare molto, però la realtà è arcova. È senza pietà. Si la prima cosa mi è salita è avata. Ok. Allora...